Neanche il tempo di ritornare in vigore dopo la sospensione per le feste che l'ordinanza anti-smog viene immediatamente inasprita. Dopo ripetuti giorni di sforamento della soglia tollerata di polveri sottili nell'aria, con il picco della notte dei panevin, da domani l'allerta da verde passerà ad arancione, con risultato che dalle 8.30 alle 18.30 non potranno circolare nel territorio comunale di Treviso le auto a benzina Euro 0,1, le diesel da 0,4 e i furgoni da Euro 0,3. Abbiamo quattro sforamenti consecutivi e quindi dobbiamo passare a livello arancione, questo secondo l'ordinanza che abbiamo recepito rispetto a quella che è la regione e quindi in livello arancione anche gli Euro 4 diesel non potranno circolare per auto private. Fatto sta che nella notte dei Falò, da Treviso allo Pitergino, le PM10 sono schizzate oltre i 300 microgrammi per metro cubo. Panevin quindi responsabili delle condizioni meteo di queste ore. In molti, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, puntano il dito contro i panevin e chi li ha in qualche modo liberalizzati. Questo non è assolutamente vero, tanto è vero che abbiamo verificato alle 18 prima dei panevin eravamo già in un livello di sforamento e siamo ritornati esattamente allo stesso valore il giorno dopo. Questo vuol dire che purtroppo le condizioni climatiche sono quelle che sono in questo momento, con una forte inversione termica e saremmo comunque stati nella situazione arancio nonostante i panevin. C'è da fare i conti con un problema ben più vasto, prosegue l'assessore, e cercare di affrontare il nodo inquinamento con soluzioni radicali, soprattutto sul fronte degli impianti di riscaldamento. Nel frattempo non rimane che adeguarsi. Da verificare, e suggerisco a tutti, verificare le deroghe che sono previste nell'ordinanza e che sono reperibili tramite il nostro sito internet. Suggerisco a tutti i cittadini, peraltro, di registrarsi al sito SMS che li avviserà immediatamente quando c'era rientro all'alerta verde.